L'agricoltura avrà un ruolo centrale per quanto riguarda il contrasto ai cambiamenti climatici e l'obiettivo da parte delle nostre aziende agricole è quello di svilupparla affinché si possa soddisfare le richieste che avremo sia dal punto di vista di mitigazione climatica ma anche per il soddisfacimento delle esigenze alimentari e fabbisogni energetici. Sviluppare l'agricoltura vuol dire sviluppare le biomasse sostenibili e questo lo faremo tramite l'utilizzo all'innovazione, alle biotecnologie che ci permetteranno di poter aumentare le nostre rese produttive ma anche di apportare all'ambiente e al terreno le risorse e le sostanze organiche che permettono di mantenere la fertilità e quindi sviluppare nel futuro le nostre aziende. L'agricoltura è vicina alle aziende e le accompagna in questo percorso che è un percorso fondamentale per il futuro dell'agricoltura.